Siamo in agosto e di questo tempo le occasioni estive potrebbero portarci nel bel mezzo di un buffet allestito in occasione di cerimonie, aperitivi o dopocene. Ecco è proprio questo il momento nel quale all'idea del quanto riempire il piatto forse dovremmo concentrarci molto di più sul pensiero di come riempirlo e di questo che parleremo nella prossima puntata di Trofin in programma venerdì 2 agosto.